Oroscopo del giorno. Mercoledì 1 maggio 2024. Ariete. Amore. Siamo pronti ad accogliere un nuovo mese, con un giorno tutto festivo in cui le cose, a livello sentimentale, per voi andranno molto bene. Venere infatti sarà in buon aspetto e favorirà ogni rapporto. Lavoro. Se lavorerete oggi avrete tante energie su cui poter contare a pieno grazie a Marte. Toro. Amore. Il pianeta Venere durante questa prima giornata di maggio sarà molto interessante. Potrebbero esserci delle situazioni interessanti soprattutto per chi è ancora singolo e vuole fare incontri nuovi. Lavoro. Giove sarà favorevole ed aiuterà chi oggi sarà alle prese con questioni lavorative. Gemelli. Amore. Un mercoledì che aprirà il mese in modo molto particolare in quanto per alcuni rapporti personali potrebbero esserci dei problemi. Delle coppie potrebbero discutere e non sarà semplice risolvere. Lavoro. Se potrete, dovrete godervi questo giorno di riposo prima di riprendere il lavoro. Cancro. Amore. In questa giornata avrete tanta voglia di godervi le emozioni che verranno. ed anche voi ne darete tante alla persona che avete al vostro fianco. Lavoro. Sarà un mercoledì festivo in cui le stelle saranno in buon aspetto ed aiuteranno chi sarà in ufficio. Leone. Amore. Questo primo maggio sarà un giorno molto piacevole in amore per tanti rapporti. Chi è invece ancora singolo e vuole fare delle conoscenze dovrebbe veramente impegnarsi in un nuovo incontro. Lavoro. Dovrete darvi da fare per ottenere dei risultati ma per molti oggi sarà un giorno libero. Vergine. Amore. La posizione delle stelle potrebbe portare una certa serenità in amore per questo mercoledì. Le cose proseguiranno abbastanza bene con il partner o una persona vicina. Lavoro. Riposate e cercate di ricaricare le batterie se avrete il giorno libero per via della festa dei lavoratori. Bilancia. Amore. Un primo giorno del mese in cui le cose dovrebbero andare abbastanza bene con la vostra dolce metà. Per i single non sono esclusi dei nuovi incontri. Lavoro. Avrete un certo desiderio di ottenere di più e non sarà affatto impossibile farlo ma visto che per molti sarà un giorno festivo potrete anche staccare un po' la spina. Scorpione. Amore. Il primo mercoledì del mese sarà anche un giorno festivo per cui non fatevi prendere da problemi, da ansia. Meglio evitare esagerazioni e godersi un po' di più il rapporto. Lavoro. Qualche news potrebbe arrivare per tanti durante questo nuovo giorno dell'anno. Sagittario. Amore. Durante questa giornata che aprirà il mese potrebbero esserci delle situazioni particolari per l'amore. I sentimenti non per tutti saranno al top quindi attenzione a determinati aspetti. Lavoro. Affrontate il mercoledì con più tranquillità soprattutto per chi avrà il giorno festivo. Capricorno. Amore. Questo sarà un mercoledì in cui potrebbero arrivare delle decisioni importanti da dover prendere. Per qualcuno si potrebbe chiudere una storia, per altri si potrebbero aprire nuove porte sentimentali. Lavoro. La giornata festiva di oggi per tanti sarà lavorativa. Quindi ci vorrà una maggiore attenzione. Acquario. Amore. Sentimentalmente questa sarà una giornata in cui i sentimenti non mancheranno ed anzi, al contrario, saranno forti, decisi, piacevoli. Tutto andrà molto bene sia per le coppie che per i single. Lavoro. Occhi ben aperti agli investimenti. Le idee non vi mancano ma potrebbe essere un momento poco proficuo. Pesci. Amore. Questo per voi sarà un giorno in cui in amore tutto andrà bene. Inoltre, ci sarà la possibilità di organizzare qualcosa con il partner o una persona nuova, dedicare del tempo. Lavoro. Presto potrebbero giungere delle novità. Intanto godetevi questa giornata festiva. Intanto godetevi questa giornata. Intanto godetevi questa giornata. Isto lo carina. Grazie.